Inaugurati quattro nuovi laboratori presso l'Istituto Professionale Niglio di Frattamaggiore. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al preside, il consigliere metropolitano delegato alla scuola Domenico Marrazzo ed il sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio del Prete. Oggi qui inauguriamo questi quattro laboratori, quindi quattro ambienti che restituiamo alla scuola e alla platea scolastica. Questa dimostra l'attenzione mirata della città metropolitana per i singoli interventi all'interno delle scuole. Perché conosciamo da vicino quali sono le esigenze di ogni singola scuola, quindi cerchiamo di intervenire in tempi quanto più rapidi possibili per la messa in sicurezza e l'efficientamento di tutte le nostre strutture scolastiche. Grazie. 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 Grazie.